Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz Ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè e mercati Come sempre un saluto da Riccardo Zago Andiamo a scorrere come sempre il calendario eventi Si sta avvicinando il 25 luglio, ormai mancano due giorni Terza lezione del corso Ichimoku e Price Action Importantissima questa lezione perché affronteremo anche il tema del money management e gestione del rischio E quindi vi aspetto numerosi, le iscrizioni sono ancora aperte Andiamo a fare un po' di aggiornamenti però perché voglio parlare di AudiUSD Come già detto ieri, un livello interessante che sta ottenendo d'occhio era quello di 0,7025 Beh siamo proprio su questo punto quindi direi che è il caso di entrare al rialzo Almeno io entro long su AudiUSD Stop loss alla chiusura dei prezzi al di sotto del livello di 0,7 Quindi vediamo come andrà Target finale, l'abbiamo detto anche ieri al webinar del lunedì L'abbiamo a 0,71 e 81 Cerchiamo di sfruttare questo nuovo possibile trend rialzista Andiamo però avanti e parliamo di EURUSD Dove siamo short da 1,1280 Quindi sta andando bene Attenzione è stata raggiunta una zona supportiva molto importante Sarà molto interessante valutare la chiusura odierna Ma anche dei prossimi giorni Quindi mantengo le mie posizioni con un obiettivo finale in area 1,11 e 20 Continuiamo però perché dobbiamo vedere il DAX Attenzione il DAX è tornato su dei livelli interessanti Sono entrato short con stop alla chiusura dei prezzi Sul time frame giornaliero A di sopra di 12.450 Stiamo parlando di future Comunque sono short più o meno da questi livelli Provo uno shortino Ne abbiamo parlato anche ieri al webinar del lunedì Quindi confermo la mia view short di breve termine Andiamo invece a parlare di BEYOND Perché insomma BEYOND ci sta dando grandissime soddisfazioni Ieri un più 10% Siamo andati a rompere in chiusura i massimi precedenti Quindi molto molto interessante L'esplosione di volatilità che abbiamo visto ieri su BEYOND MEET Continuo ovviamente a mantenere le mie posizioni rialziste Andiamo verso la conclusione E parliamo di BITCOIN Perché? Avevamo provato un long segnalato prontamente all'interno del gruppo Traders Club Da 9.500 L'abbiamo chiuso circa qui a 10.200-10.300 Dove abbiamo aperto poi uno short Quindi adesso sono short su BITCOIN Da 10.430 Se non sbaglio Voglio segnalare che ho già spostato lo stop in pareggio Ovviamente se volete seguire tutte le operazioni che faccio O comunque molte delle operazioni che faccio Beh ecco qui abbiamo il gruppo Telegram Traders Club All'interno della sezione servizi trovate tutte le informazioni necessarie Io con questo ho concluso Buona giornata e buon trading a tutti